Da quando Chiara Ferragni ha aperto il vaso di Pandora, anzi di Pandoro, per i poveri influencer non c'è più pace. La notizia di oggi è che persino la Guardia di Finanza di Bologna si accorta dei loro guadagni milionari, a cui pare non corrispondesse un adeguato contributo alle casse esauste del nostro erario. In altre parole, nove influencer, il più famoso dei quali forse è Gianluca Vacchi, quello dei balletti, sono accusati di avere evaso il fisco per svariati milioni di euro. Insomma, cambiano i mestieri di moda, ma non la regola aurea secondo cui chi può evadere le tasse lo fa volentieri, anche se potrebbe tranquillamente permettersi di pagarle. L'idea che un milionario dovrebbe sentire l'impulso a condividere parte della sua ricchezza con la comunità è un'idea nobilissima che può venire giusto a chi milionario o non è. In un paese che non ha senso dello Stato, ma in cui anche è lo Stato a fare senso, ai nuovi ricchi del web, esattamente come ai vecchi ricchi che li hanno preceduti, non dispiace tenersi tutta la torta per sé. Per sentirsi a posto con la coscienza, piuttosto che dare i loro soldi al fisco, preferiscono fare beneficenza, o almeno lo preferivano prima che si aprisse il vaso di Pandoro. In altre parole, Roberto Vecchioni. Io non sono il vaso di Pandoro. Anche se devo dire, quest'anno ne avrei parecchie da pagare, questo signore, questa signora...